bene ragazzi eccoci con un nuovo video di talus of our eyes allora eravamo rimasti che dobbiamo arrivare alla nave mi ricordo che dobbiamo andare a reno io non ci becchiamo un altro video su video su video si vabbè catastronizzata e dove atterriamo? al centro cioè tutto il paese sta merda qua eh non c'è un'anima viva detto che sono alieni parassiti e che gli si è veduta sta energia? c'è un'anima e se non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno eh finirà così se non lo slochiamo eh finirà così se non lo slochiamo è interessante questo mondo di dolore in sui giorni reno era probabilmente proprio come la dana è ma dopo aver sfruttato di sua energia astrala per tanto tempo i giorni sono passati è tutto ciò che ci sarà E se stai accendo il mongoloide che segui i suoi ordini, che ti devi fare? Eh vabbè, abbiamo capito, vogliamo fare qualcosa? Io direi di affrontare i nemici e vedere a che livello sono, se no penso che si possa tornare indietro a pomparsi un po'. Ah, ecco perché non me l'ha chiuso. Allora puoi tornare indietro. E ma dove li trovo questi gufi speciali? Infatti buttali! Ok. Ma come facciamo? Mi credo che non sarà così facile come prendere un serum di spirito. Mi avevo già avuto la energia astrala tre anni fa. Perchè per la supprere le tue le tue, il problema non è solo il nostro esforzo, è che è sentienti, e tu puoi credere che... In altri casi, noi bisogna trovare un modo di rinforzare in avanti. Ma la basta! . Ho chiuso da... Questa quando rinforzare a gente, possiamo dire, tanto... ...ma Bueno... The world will be like, is that what you're asking? Yeah, I mean, at the end of this, do you really... A lot will have to change, that's for sure. The world will have to adjust to so much. What do you mean? It's well and good putting an end to Renin rule. But if it just turns the tables... That's true. Just as bad if the Danans started pressing... Renans, Danans, astral art users... Se solo potremmo vedere differenze così per quello che sono. Non è diverso che qualcuno abbia... Non sono differenze, ma tanto... Ci prenderà qualcuno in potenza per impostare un esempio. Ma con il tempo, le persone sanno seguire. E poi, magari non ci saranno più necessità? È lì siamo arrivati! Possiamo fare la... Immaginazione! Un mondo dove magica e astro arts sono usate per aiutare le persone. Cioè, è la norma... Sì, è vero, Rinwell. Perché aspettare a qualcuno di altri? Possiamo mostrare loro. Madonna mia, ma che è? È così avanzata che non si rende conto di essere presa per i fondali. Non si rende conto di essere presa per i fondamenti di essere presa per i fondamenti di essere presa. Poi mettere un pin in, e tu puoi fare tutto il risultato che vuoi quando ti ritirano. Puoi pensare di più cose che un risultato dedicato a risultati. Per quanto riguarda se Rena è un specifo di un specifo di agee... È un po' presto. Un uomo può pensare, però... Oh, non abbiamo detto... In tuo caso, Dohalim, pensi hanno un habit... Non ti libererai di Kisara. Vediamo se ci fa andare... ...da qualche altra parte. Si sono sbloccati tutti... Ma allora, aspetta. Io vado un attimo dentro. Penso che... Aspetta, fammi salvare. Ok, salvo. Io quando sto... 45, 46. Vediamo quando sono arrivati là. Si può tornare indietro. Torniamo indietro. Scusa, quanti che ce ne stanno qua? Così? E bu, e bu. Non ti fa niente. Oh, niente. A che servono qua i due? Non lo so. Andiamo. Oh, niente. Sì, certo. Quindi ho pensato su questi soldati armati che abbiamo visto. Sono regolari... Sì, sono costruzati per rendere a chi lo ha vestito più forte. Sì, quindi è un pochino che... Non lo so, lo rende più intimidanti, credo. Non pensi che è vero che gli soldati armati sono la stessa stessa dimensione che il Helganquil? Non posso dire che ho mai notato fino ad ora. E? Connere i punti, Law! Ok, mi raccomando questo. Non è vero, non è vero. Pensi che gli armati armati potrebbero essere costruzati per rendere a Renan di lavorare con Helganquil? Oh, ma se è vero... C'è vero che... C'è vero che... C'è vero che... Non... 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 C'è vero che... Che ho? Che cosa è? Che ora? Ah, ora che vuoi? Ah, ora vuoi? Ah, 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 ah! E questo è l'anzardo. C'è vero, ragazzi... Quando pensi di questo, abbiamo preso molto... Poi puoi dire questo ancora. Se una cosa è sicuramente in questo mondo... Non è vero che sono ancora così plentissi? Non pensi che i Renans hanno, come... Un rancho dove li li prezzi? Certamente in tutti i miei anni... Non ho mai parlato di loro costruzare così un massimo facility... La prima cosa che posso pensare... ...è che i ferali devono essere... Non c'è anche nessun esforzamento... ... per la nostra parte... ... per farlo... ... quindi è difficile... Exterminare loro? Wow... Non... Cioè... Ma che stai a dire? Sì, sono animali... Vanno ammazzati... Basta... Mamma mia... Sì... Arriva, no? Ma... Ti ha mandato l'amico tuo? In questo caso... ... abbiamo nessun esforzo... Ah, c'è un esforzo... ... quindi io sto... ... ammazzati niente... ... quindi io sto ammazzati niente... ... ci dobbiamo zero un po' di livello... ... un po' basso... Ha ratito... Buongiorno... Chiapoptà... Alla prossima... ... Ma quando è nessuno? Non lo so, saranno 5 ne stavano, almeno saliamo un po' di livello nel frattempo. Ma no, ma deve fare questo manfrino ogni volta che ammazzo qualcuno? Metteremo 3 anni per passare. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 50-52. E sono di buio. Oggetti qualcosa non ci danno, niente? Questo libero al britrio, eh? Eh? Io non ce la faccio più sentire strano da leggere. È libera al britrio. Ma non ho fatto quello che gli è convenuto a loro. Dici, possiamo sempre teletrasportare? Sì, decisamente. E che è sul vostro qua? Che devo fare? Allora, selezione e destinazione, livello superiore. Ah, quindi i becchi direttamente... Ah, nell'ascensura. Ah, ok. Sono rimasso l'ultimo. Mamma mia, quando ne avremmo uccisi? Ah, vedi? Ah, vedi come siamo aumentati? E' 47. Una botta. Allora, mo' stiamo dove? Vabbè, dovremmo scendere? Penso. Non lo sappiamo. Chi sa mai. Ok. Quindi stiamo ancora a livello 1. Eh, sti abete qua mi fanno proprio... fastidiosa. Dunque, se mangiate per far aumentare il livello qua, aumenterete di sicuro. Non è che io devo arrivare a livello 50, quindi devo fare quello del... del pesci. La missione del pesci. Non so se mi sblocca qualche oggetto. Anzi, qualche arma. Allora. Ah, vedi? Ora. Che si fa? Vediamo. Se vado qua, dove vado? Dov'è? Vediamo se finisce qua. Devi continuare di là. Ok. È una stanza. Ah, che bellino bel sottio. Eh, allora qua ti formi a Goku. Fammi vedere se ho sblocato qualche... Qualche punto di abilità. No. Mi sto ammazzando 3000. Non mi fa niente di abilità. È una bambina. Sblocco. Sono tutti pieni. Per mio no. A questo mi conviene salire questi. Fammi vedere se mi conviene salire questi. Grazie a tutti. Ah, quindi questa è la versione oscura del Kano a due teste. Eh, questa la viene un po' difficile. Ciubba. E chi è la Giubba? No, eh... Ah, ma questa? Me l'avevo mangiata. Giubba. E di lui. Ma mi sono zompata delle... No. E tre ce le ho. Ho capito perché Kizara non ce l'aveva. Ok. Quindi, niente, piano piano si fa. Rimboccatevi di materiale. Dovremo trovare qualcosa per salvare. Allora, qua non ci sta niente. Oh. Eh, ma questo ci servirà per far salire di livello. Dovremo arrivare a meno al livello 50. Quindi di qua... Aspetta, no. Non ci sta qualcosa in fondo. O anche quello che abbiamo visto in la Forbidden Stone. Potremmo questo è il vero architettuale style. O, potremmo l'opposito. Ah, 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 ah. Vedo una cosa là in fondo. Vediamo se riesco a prenderlo prima che mi fanno il culo. Ah, soldi. Niente di che. Vediamo che siamo già arrivati a 48. Siamo di 17. Siamo di un buon livello. Ah. Sono arrivate. Aspetta, andiamo di qua. Vai, apri. K. Niente. Niente. Eh? Scacciamo all'anni tre? Cioè, mi sembra proprio poco come roba da darti. Allora, ehm... Sì. Oggetti. Ah, bella. No, adesso c'ho altre dieci. Ne voglio fare. No, finora non mi si finisce. Ho dovuto schiacciare B quando fa il controattacco. Non mi ricordo. Questo quando è che faceva? Ah. Ah, questo dovresti fare buio perché è di luce. Forse è qua ci vuole qualcuno che recuperava i pc. Però a me mi interessa salire di livello. Quindi. Ah, vedi che c'era qualcosa qua. Ah, il frammento 5 di platino. Perfetto. Rompiscatole questi qua. Ma sono più le api che danno fastidio. Ah, e ha preso Pira Glaciale. Arty. Pira Glaciale. Buono. Allora. Attacca il nemico prima di sollevare un blocco di ghiaccio. Ah, effetto può durare un po' di fiori. Ma della difesa. E io quello devo fare. Devo sbloccare. Che roba che non c'ho. Di qua? No, è solo uno. Perfetto. Figo. Un'altra volta è il cagnolino. Questo è il dasolo a sto giro. Questa è un'altra volta è un'altra volta è un'altra volta. Questa 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 è un'altra volta. Questa è un'altra volta. Questa è un'altra volta è un'altra volta. Questa è un'altra volta. Questa è un'altra volta. Mi vorremmo passare, grazie. Quattro? 49, tutti 49. Perfetto. Quindi da questa parte abbiamo finito. Farò usci da qualche altro lato? Non c'è niente. Andiamo dove ci porto. Ehi, che bel posticino. Si, almeno ci teletrasportasse. Hmm. Ma sti ciattolo che abbiamo di fronte. Braccioletto fortuna. Ma... Mi sembrava così essenziale. Anche perché tanto questi sono livello 1. Perfetto. Allora... Quattro. 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 Si. Quattro. 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 Ah, qua ce ne sono due Oh no Eh, ma proprio quella si è messa Vediamo che ci sta Sangue di Drago 2 Eh, decisamente va bene Sì, sicuramente per fare qualche arma Siamo a livello 50 Siamo a livello 50 Io non so se ritornare sopra E ammazzare quelli Perché era finito Sì, perché era finito Ora c'è qualche oggetto Sì, infatti c'era qualche oggetto Non pensavo che potete andare di là Ah, uguale Ah, vedi che mi stavo lasciando Eh, eh, eh Va bene Si aumenta la penetrazione Penetrazione, penetrazione Un po' bassino Vediamo che ce lo possiamo aumentare Ok Allora Quindi era chiuso Pensavo che continuava invece Allora, la sta aperto Ma sì Faccio consumare tutti i punti a cura che abbiamo Tanto Io penso che questo è di... No Di chi è? Ah, guarda, deve essere di... È la nostra Chisara Noi stiamo quasi finendo Questo lato Poi immagino che dovremmo arrivare più o meno a 60 Andare tranquilli contro il boss finale Allora 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 E qua ce la dobbiamo prendere un'altra. Ah, di come lo riempie? Hmm, qual è il maggio questi? Ah, di come lo riempie? 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 E questo è buono. Ah, di come lo riempie? Ah, di come lo riempie? Hmm, si salva? Allora, io salvo... Vediamo... Penso che stia già al boss finale. Qu'è questo posto? Ma non mi... No... ... ... E che vuoi fare li vuoi risvegliare tu? No... No... ... 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 Ah, hey, really now? What? I see. Agreed. Very nice! Giganta si abbraccia. Quindi non ce l'abbiamo. A dormire? Non dormo perché è inutile. Però questo qua? Ah, ce l'ho già passata. Ehi, ce l'ho già passata, ma è uscito. Oh. Allora, aspetta. Quindi si è sbloccata quella in fondo. Dobbiamo andare di qua perché quello sta di qua. Speriamo che sia a livello fattibile. Ok, sta là. Dobbiamo salvare. 54. Ce la dovremmo fare, no? Allora. Niente, non dice che cosa ha di speciale. Ah, mazza! E' già ammazzati tutti quanti. E' già ammazzati tutti quanti. partners, one more is more and people. Ah non c'è messa on either. Expertil. Especially the 해주 onto BForen. Connor. Amelia. John. Oh my god. Isn't transitions now. kiest avere age data. How a Anais 99. Yo... I rlemed with the powers. No, quindi fa una specie di trottola, carino. Chi fa c'è? Un raggio. Grazie a tutti. E' finito con la limite. Allora. 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 . Allora. Allora. . Allora. Allora. . . Allora. . Allora. . Allora. . Allora. . Allora. . . Allora. . Allora. aspetta. Che fa questo che muore così? Dovevo prendere un po' di oggetti prima di fare questo qua. Grazie a tutti! No, siamo a metà della strada. No! 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 Non lo stesso! No! Ma finisci di fare sembra arti? E' rimasto uno, vedi che si fa? Oh, dai morta. Ma mi vado a comprare un po' di roba. C'è un po' di roba. C'è un po' di roba. Ah, chissà che ci sblocca qualche abilità. Buono. Campione dello spazio. Vedi, lui l'avevo completato. Ah, vedi. Altra limita. Altra limita. Altra limita. Altra limita. Altra limita. Altra limita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo che mi chieda. Allora, ho finito più che altro. Ho finito gli oggetti. Ok, questo sta giù. Ok, io direi di tornare sulla terra. Devo comprare un po' di roba. E' un peccato. Allora, ho la roba per aumentare di potenza. A dormire sembra proprio una stronzata. Fammi vedere gli oggetti. Allora, prima di tutto vendiamo frammenti di platino. E mi ascono. Ok. Cottiglie della vita. veri di farle tutte vediamo oh che carina il chissà dove starà ah vedi sangue di drago carino ma quando ce ne sono qua posso mosso tanti che ancora non ce l'abbiamo un guido i drago ce la facciamo a farlo i soldi vabbè che non lo potrei manco fare ah il sangue di drago ah c'è finito ok questo lo potrei fare o no ok ma ce n'avevo uno di artiglio maledetto io direi di di andare a mangiare qualcosa che non ho cucinato fino adesso questo mi sembra che non l'abbiamo fatto che non lo potrei sembra di certo, se qualcuno sta cercando di piacere il loro piacere... Sì, non ho vedi le donne. non c'è nessuno non c'è nessuno Sì! 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 Z Whoo! Nien bek来! Si пока widzę. Mięc na sitesV Oh, finalmente si è sbloccato Oh, ci sta un gufo Dove sarà? Un gufo, un giunuffo speciale No, ormai si saranno magnati tutti al ranch Quindi qua c'è un gufo, ma non sapremo mai dove sta No, non ammende possiamo aprire quella parte di strada Ma è che fai la rombra Beh, vabbè, una passeggionata non credo Vediamo 53 No, è fattibile Allora, è acqua Quindi dovremmo usare Fuoco Fuoco Mamma mia, affa, è morto No, è fattibile No, è fattibile Allora, è fattibile Allora, è fattibile Tutto Non c'è Non c'è Non c'è mamma mia mamma mia Grazie a tutti 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 Mamma mia Il padre Grazie a tutti 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 Hey What is it? Do you think... Make what? Just, if you wanna... Just, if you wanna... Huh? Dinner? What did you think I was... No, it's nothing. Don't worry about it. Well, do you... This is... So you remember? That's right. We're going to fix the very... Although, I rem... You still... I'm just teasing. I picked this recipe be... Anyway, let's... I never thought we'd... Yeah. No, it's... True. That's not exactly... Yeah. Even after our back... Yep. I hope our dinner... Maybe not exact... Oh, no, not our... And real cheer... And when it's... Standing... Whoops. Looks like we made too much. Yeah, you're... Side by... I'm looking forward to breakfast. Come on, guys. We've got lots to do. Ah, we... quindi devi fare una combo di 5 prima This place is rather gloom mi why don't you lighten the mood for us while we're here then i'll see what i can do hey hey i guess no way damn all right this is thanks no way no way Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè che ormai sto senza saldi lunga. È giusto una curiosità. Allora, miglioro. No, è uno. La sferisciabilità. No, è l'abilità solo a quelle da quattro in voi. No, è l'abilità. 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 La sferisciabilità. In questo caso... No, è l'abilità. No, è l'abilità. No, è l'abilità. No, è l'abilità. Ma... No, è l'abilità. No, è l'abilità. No, è l'abilità. E... Oh... Oh... Hey... Hmm. Hmm? Hmm? Yes? Hmm. Just great. Uh, how's this? Got it. Hey! All right. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. grano ce l'abbiamo oggetti grano si uova uova e dobbiamo andare a comprare le uova uova ne abbiamo quattro si mannaggia ecco le uova vediamo un altro esistimo a posto no 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 In fact, I don't know how to explain... Wow. ...he was. Maybe it's the snow soaking up all the sound, but something about Ciclodia always... When it comes... I won't argue with you there. Still, that azure tint of the shadows on the silver... Indeed. All I know is it's freaking cold. Still, more pleasant. Hm, well, it's... How about... An unexamined path. Better that than obsessing over it like a certain... Kisara does... I could say the same thing. Tell me a... I think I'll refrain from... Hoodle, I've got some dried fish for you. Forget that. Doesn't some tasty red meats... Hey! Stop trying to coax him away with treats! He appears to enjoy being... Funny how things change. It's not just Hoodle. They do say pets and their owners... Well then, I guess with you and Hoodle, that makes us all one... Sometimes when I'm deep in... Oh, you will someday! You will... Wish I had that... Really? He seems tame enough... That's dogs, not owl. What's going on when Ho... Uh, I don't know. Unless... Come again? Ha-ha! Ow! Ah! Get off! Ho! Hah! Hah! It's seconded for me... ...dove dobbiamo andare. It's seconded for me. dobbiamo andare ma le uova ce l'ho di di fa la ricetta la ricetta mi fa questo è... sì oh amaz... nice work molto bello grazie sì oh l'abbiamo finito o ci romperà da qualche altra parte ok dobbiamo consegnare le cionbelle passano tutte così le missioni oh dai sbloccaci qualche abilità ok quindi l'abbiamo fatto non so se conviene fare altre missioni sì, una parola di consigliere potremmo volviare a parlare di man, potete immaginare la face di Rinwell? io ho pensato in generale, ma tu sicuramente lo ha pensato oh, io, 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 sai, lei è sempre oltre che, o magari qualche parte di voi è sempre sempre may the trials e tribulations of young romanzi romanzi? come, io sarei interessato in that know-it-all tomboy io sono più di matura sai, io sono un tomboy anche quando ero e guarda, non sono i tomboyi che ho capito ma, come on hey, non mi ricordo qualcosa? cosa è tutto il fuss? eh, rim, eh thunderbolt ah, un piccolo birdie mi dicevi che stai parlando di me dietro a me ah, da la vista non sarebbe chiamato il springo di youth senza un piccolo storm ogni ora e... hey, Shion che è un po' di blu sorry, è solo non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo Sì, Xi'an, ma questo non stoppa te di sapere che... C'è vero, ma mi ricordo quando abbiamo incontrato. Ma è stato un po' tempo fa! Ci sono molte cose che non ho capito da lì... Non ti preoccupi, sono solo... E tu è certo. E se è il piatto di piatto di qualcuno, tutto più meglio. Tu potresti solo avere... Oh no, se è il paletto di Alpen che sei apprezzato... Beh, la amizia è per essere supportante. A volte solo abbiamo... Anche dopo stare qui, non siamo davvero arrivati all'interno di quello che rende Renan e Danan nostre distinzioni significativi qui. L'attività di un'attività di un'attività è sicuramente fornito. Questo può essere il caso. Un'attività, magari. Se non è, dovremmo fare qualcosa di nuovo. No, non noi. Tu è vero. Queste cose prendono tempo... Che è successo? Sì, scusate. Sì, scusate. C'era un grande fluggo e ho avuto un po' di scioglie. Un po' di scioglie. C'era un po' di scioglie. C'era un po' di scioglie. C'era un po' di scioglie. No, Halim. Non credo che era... Ehi, un lizzardo! C'era un po' di scioglie. Stiamo finendo un po' di missioni secondarie prima di affrontare il boss. Poi io volevo sbloccare la parte finale dei pesciolini che mancano. E mi sa che quel posto era a livello 50, quindi molto probabilmente dopo lo andrò a fare. E inoltre ho trovato un gufo speciale che si sblocca... Vediamo dove stava... Gufo. Quindi scopri tutti i gufi. Ho trovato questo gufo sbloccando un passaggio con il lord che ti fa crescere l'erba. Quindi sono salita sopra e ho trovato il gufo. Sono dorati questi. Giallini più o meno. E... Se vi è piaciuto mettete un like. Se volete vedere come va avanti la storia iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Ciao ciao!